Amici di Giardino Web, ben trovati sul canale per questo nuovo appuntamento di giardinaggio in studio. Oggi, ovviamente, essendo il mese di maggio, il mese più che altro dedicato a questo fiore bellissimo che è la rosa, parleremo proprio delle rose, ma in modo particolare di una rosa davvero davvero speciale. Parleremo della Souvenir della Malmaison. A tra poco, vi aspetto! Ebbene, eccoci qua, come vi dicevo, a parlare di questa rosa davvero bella, bella in tutti i sensi, bella per il suo portamento, ma stupenda sicuramente per i suoi fiori. I suoi fiori da tanti, tanti petali e da un profumo davvero, davvero speciale. Una rosa che è nata nel 1843 da un giardiniere e bridatore, un giardiniere che faceva parte della corte di Giuseppina Buonaparte, la consorte di Napoleone Buonaparte. E lui, naturalmente, si chiama Joan Baptiste Guillo. Joan Baptiste Guillo, nel 1843, sotto questo desiderio della regina Giuseppina, crea questa rosa. Perché? Semplicemente perché il fatto lei era un amante delle rose. Dove andasse Giuseppina Buonaparte si portava dai suoi viaggi centinaia di talee e la maggior parte, non è che attecchirono tutte quante, ma attecchirono abbastanza per creare a quei tempi uno dei bei, dei più bellissimi roseti europei. Oggi di questo roseto non rimane nulla, ma ci rimane questa rosa, forse la sua preferita, proprio perché chiese al suo giardiniere di realizzare una rosa che forse rifiorente nel tempo. E infatti una rosa grande, rifiorente nel tempo, erano davvero, davvero molto rare in quei periodi, ad eccezione delle rosse cinesi, che sono delle rosse davvero piccole e rifiorenti. E Giovanni Battiste Guilò creò questa rosa, chiamandola Souvenir della Malmaison, e da questo colore stupendo, color cipria, e da questo profumo che emana un profumo davvero inebriante, talmente delicato, ma nello stesso tempo gradevolissimo. E questa rosa, dopo la sua fioritura che fa nel periodo di maggio, una fioritura davvero esuberante, seguita a fiorire nel tempo, quindi nel mese di giugno, di luglio, eccetto quei giorni dove ovviamente fa talmente caldo che non possono fiorire le rose. Per riprendere poi verso settembre e andare avanti, così addirittura la mia che ho in giardino, fiorisce fino ai giorni in prossimità delle feste natalizie. Devo dirvi subito che è una rosa che ama uno spazio abbastanza grande e quindi quando l'andremo a piantare diciamo che vuole uno spazio dove stendere i suoi rami, probabilmente, scusate, possibilmente su uno staccionato oppure su una recensione oppure su un reticolato. Ecco, vedete voi, ma è una rosa che nel tempo ha bisogno di sostegni e infatti la mia rosa che ha all'incirca vent'anni sta allungandosi sempre di più e io praticamente l'ho messa alla semiombra di un olivo. Praticamente lei sembra aver gradito davvero questo posto perché l'olivo non è che faccia un'ombra così eccezionale perché ha una chioma abbastanza diradata l'olivo per produrre appunto la sua, per produrre le olive ovviamente e quindi a beneficio di questa rosa che appunto richiede molta molta luce, anche il sole diretto ma in quelle zone ovviamente dove il sole non vada a bruciare i suoi delicati petali. La souvenir della Malmaison ha bisogno di un terreno abbastanza, come dire, concimato e gradisce questa concimazione di uno stallatico che andremo noi a dare all'inizio di febbraio. Va bene, benissimo il concime, quello granulare che troviamo in quei sacchi abbastanza grandi nei garden center che dovremo dare appunto a febbraio dove comunque a febbraio faremo anche una certa potatura. Dico certa perché ecco non non ha bisogno di una potatura forte in quanto è una rosa che appunto ha questi questi fusti abbastanza lunghi e quindi dobbiamo dargli spazio per allungare la sua bellezza, altrimenti rimane non bella, ve lo consiglio fin da subito. Ecco se avete lo spazio considerate di dargliene abbastanza perché ama allungarsi come dicevo prima. Poi proseguendo per la concimazione direi di proseguire verso la metà, la fine di maggio all'incirca con un concime specifico di rose che io vado poi a dare alla fine del mese di agosto. Ecco questi sono più o meno le concimazioni che io faccio alla mia souvenir della Malmaison. Ricordiamoci anche di annaffiarla abbastanza spesso, specialmente nel periodo in cui come ora ha moltissimi fiori vuole molta acqua. Non un terreno argilloso, quindi piantiamola in una zona dove il terreno sia buono, appunto trattiamolo con il concimo e come dicevo prima, e annaffiamo abbastanza perché è una rosa che ha bisogno di acqua. Però state attenti perché la mia esperienza mi ha portato a dirvi questo. Bisogna fare molta attenzione a non bagnare così i fiori, i fiori e le foglie, perché un po' come tutte le rose, specialmente questa, la souvenir della Malmaison, si ammala abbastanza di frequente con l'acqua che va appunto bagnare le rose e le foglie, scusate, e possiamo avere appunto queste malattie fungine. Ma un'altra cosa è che i fiori, una volta bagnati, così ricchi di petali, e quindi sono anche abbastanza pesanti, tendono veramente a avere un comportamento molto molto brutto, diciamo, e quindi se piove, beh, pazienza. Ma altrimenti cerchiamo di non innaffiare mai nessuna rosa, e vale specialmente per questa, con lo spruzzino o con il getto d'acqua direttamente sulla pianta stessa. Per quanto riguarda la moltiplicazione della souvenir della Malmaison, vi devo dire che io quella che generalmente faccio, uso maggiormente, è quella della talea, quindi vado a prelevare, adesso qua mi dispiace tantissimo rovinarla, perché ha questo bocciolo davvero stupendo, comunque vado a eliminare questa, e quindi va fatto la talea, non in questo periodo, assolutamente, perché abbiamo la pianta a tantissimi fiori. E quindi fate come sto facendo ora, tagliamo un rametto di questo genere, in obliquo, mi raccomando, e poi togliamo tutte le foglie, come ho fatto io, lasciando solo queste due foglie apicali. Poi metteremo questo rametto con una soluzione di ormoni, che sono quelli appositi per far radicare più volocemente il pezzetto di ramo, e lo andremo a mettere in un vasetto con il terreno, e questa è una talea. Però, come dicevo prima, non va fatta in questo periodo assolutamente, perché poi se arriva il caldo le talee bruciano, perché ovviamente non avendo un apparato radicale formato, e quindi rischiamo veramente di rovinarle. Il periodo che vi consiglio di fare la talea di questa rosa, o di tutte le altre rose, ovviamente è o passato settembre, quindi inizio ottobre, oppure nel periodo in cui le andremo a potare, ovvero sia sempre il mese di febbraio. Io generalmente lo faccio in quel periodo, e quindi è il momento migliore, perché poi in quel momento ne abbiamo tanto di materiale per fare le nostre talee, perché andremo a potare sia questa rosa che le altre, e quindi invece di buttare tutto, possiamo fare appunto tante talee e metterle in radicazione. Una volta che è radicata, la nostra rosa, la nostra souvenir della Malmaison è pronta, e io generalmente, visto che di spazio non ne ho tanto, quindi ho solo lo spazio per lei, in giardino le altre le regalo ai miei amici, e così penso di fare un bel regalo davvero gradito. Ed eccoci arrivati alla fine del video di oggi, spero che abbiate veramente gradito questo video interamente dedicato alla souvenir della Malmaison, questa rosa stupenda, vi consiglio veramente di provarla, perché è una rosa che vi darà tante tante soddisfazioni, specialmente in questi giorni, ci sono tanti in questi fine settimana, tanti mercatini, dove appunto possiamo acquistare anche queste rarità floreali, ricordatevi appunto souvenir della Malmaison. Per il resto vi ringrazio, come sempre vi invito a lasciare il like, a iscrivervi al canale Giardino Web, e io vi do appuntamento ad un prossimo, sempre qua sul canale YouTube di Giardino Web. Un saluto e a risentirci da Andrea. Grazie. 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 Grazie.